La procura distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Piazza Dante, a carico di un 29enne catanese indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo, nei suoi confronti, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalla figlia e l'applicazione del presidio di controllo a distanza. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte dell'uomo nei confronti della moglie, una 21enne del posto. Il giovane avrebbe infatti sottoposto la compagna a continue denigrazioni e aggressioni fisiche anche davanti alla loro figlia, minacciando di morte sia lei che i suoi familiari. A causa dell'uso di stupefacenti e psicofarmaci, l'indagato, durante un litigio, avrebbe anche tentato di strangolare la moglie dopo averle dato un pugno al volto. Dopo una serie di episodi, l'indagato aveva lasciato l'abitazione familiare ma nel mese di giugno vi sarebbe entrato di nascosto mentre la compagna e la figlia dormivano, rompendo il televisore, le porte, la cassettiera e le ante dell'armadio e poi, svegliata la ex, l'avrebbe spinta a terra, afferrata per i capelli e presa a calci minacciando lei e i familiari. Quest'ennesimo episodio di violenza avrebbe dato finalmente il coraggio alla vittima di denunciare. Tali condotte sono state riscontrate anche dalla versione di testimoni e comunicate dai carabinieri all'autorità giudiziaria che ha deciso di adottare la misura cautelare ritenuta al momento più idonea, ovvero quella del divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto che permette di segnalare in tempo reale l'eventuale violazione del provvedimento.